Si muove in territorio decisamente negativo piazza affari. Stesso andamento è ribasso anche per le principali borse europee Unica blue chip di Milano a ottenere un buon risultato di Azorin, che segna un aumento dell'1,67%. Le più forti vendite si manifestano su un CXI, che prosegue le contrattazioni a meno 3,12% Sul mercato delle materie prime, nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.796,4 dollari l'oncia È previsto domani dall'Italia l'annuncio dei prezzi alla produzione su base sia mensile che annuale. È previsto mercoledì sia dal Regno Unito che dagli Stati Uniti l'annuncio del PIL Si attende un avvio negativo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.609 punti